È il momento di parlarvi dei mosaici, in particolare devo raccontarvi della nascita e della diffusione dei mosaici per quanto riguarda la decorazione degli edifici di culto cristiani. Ma prima ancora voglio mostrarvi questi meravigliosi esempi tratti da alcune custodite, in particolare questi al Museo Archeologico di Napoli, derivanti dalle case pompeiane, dalle case romane, dalle domus appunto di Pompei, che vi mostrano come i motivi, la tecnica del mosaico fosse già ampiamente diffusa e impiegata appunto anche nell'epoca romana, quindi per abbellire le domus dei patrizi. Da dove deriva questo termine mosaico? Parliamo di mosaico o di tecnica musiva. Il mosaico, come si dice la parola, deriva dalle muse. C'erano infatti delle grotte artificiali costruite all'interno di questi giardini romani che spesso venivano decorate con delle piccole pietre che a costante tra loro creavano dei motivi decorativi, come potete vedere in questo caso, in forma davvero figurativa, cioè riconoscibile. Oppure ci saranno motivi anche più geometrici, più astratti. Potevano esistere, guardate in alcuni casi che meravigliosi esempi che vi sto mostrando, potevano esistere due diverse tipologie di mosaici. I mosaici cosiddetti pavimentali, si parla di litostroto o litostrato, litos, voi se vi ricordate, significa pietra, quindi voleva dire appunto che queste piccole pietre a costante tra loro venivano impiegate per decorare le pavimentazioni. Oppure potevano esistere i mosaici parietali. Le pietre di cui erano composte queste piccole tessere, così si chiamavano, vedete che se ingrandisco possiamo veramente riconoscere la presenza di queste piccole tessere di forme regolari, o talvolta erano anche un pochino più irregolari, dipendeva veramente dalle occasioni, ed erano realizzate o in pietre dure, a maggior ragione quando si trattava di realizzare dei mosaici pavimentali, quindi che dovevano essere particolarmente resistenti, pietre dure, quindi pietre preziose, oppure terracotta colorata o ciottoli. Tutto questo ovviamente serviva per ottenere degli effetti molto raffinati, ma queste tessere non venivano colorate a eccezione della terracotta. I mosaici subiranno invece una sorta di grande momento di svolta, non è ancora questo il caso, questo vi ho scelto come immagine perché è molto significativa, poi vi spiego, ma subiranno un momento di svolta nel momento in cui intorno al I secolo a.C. e da lì poi diventerà quasi la tecnica predominante, quando verranno introdotti i mosaici con le tessere in pasta di vetro, pasta vitrea. Perché era così importante questa novità? Perché intanto il mosaico garantiva in questo modo una sorta di grande possibilità di riflesso luministico. Immaginatevi, quando voi vedete dei vetri colorati, la luce che attraversa la superficie del vetro colorato crea dei riverberi e dei colori molto belli, molto raffinati. Immaginatevi nell'idea di dover decorare delle superfici murarie o pavimentali. In realtà, pavimentali ovviamente non era possibile nel momento in cui occorreva realizzare la decorazione di un pavimento, ovviamente si sceglievano delle pietre o dei ciotoli, mentre invece per quanto riguardava appunto i mosaici di tipo parietale, sulle pareti si poteva scegliere di impiegare, e così faranno molto spesso appunto, di impiegare le tessere di pasta di vetro, appunto con queste caratteristiche di riflesso, di luce, di colore molto più intense e interessanti. Quindi, ma vi ho preso questo mosaico perché è uno dei primi esempi, anzi è il primo esempio che vi mostro di quello che vi racconterò, vi definirò come una sorta di natura morta. In realtà, più che natura morta in questo caso, qui abbiamo sì una natura morta come genere di rappresentazione, ma in realtà è un vero e proprio memento mori. Cosa significa? È una sorta di ricordo della nostra caducità, che tutti quanti siamo destinati al passaggio, a morire. E lo vedete molto bene perché qui vengono rappresentati alcuni oggetti che devono farci riflettere su questo concetto, quindi è una rappresentazione di tipo fortemente simbolico. Noi vediamo alcuni oggetti accostati tra loro che però devono farci pensare al nostro destino. Qui vedete una livella, cioè che era una sorta di utensile che impiegavano i muratori per vedere se le murature che stavano costruendo fossero allineate, livellate in modo perfetto. Vedete che scende questo filo perfetto in verticale, quindi perfettamente allineato. Tutto è in equilibrio sospeso, perfetto e precario. Vedete appunto con la nostra vita. Al di sotto c'è questo grande teschio che si appoggia su una farfalla che rappresenta invece in realtà la volatilità, la leggerezza, l'instabilità. La farfalla a sua volta è appoggiata a una ruota che ci vuole ricordare, la ruota della fortuna. A destra e a sinistra abbiamo la rappresentazione della povertà e della ricchezza. Non volevo fermarvi su questo mosaico, ma era per mostrarvi l'idea che la componente simbolica anche nei mosaici romani poteva essere già praticata. Ma torniamo a noi e vi stavo raccontando appunto che il valore simbolico nel passaggio dai mosaici di decorazione pagana a quelli paleocristiani diventerà sempre più importante. L'abbiamo già visto, qui vi sto mostrando un dettaglio che vi ho già proposto, a proposito della decorazione della volta del deambulatorio di Santa Costanza a Roma. Vedete come ci si è presente questa grande ricchezza decorativa, naturalistica, di animali, di vegetazione, proprio a riempire a, in questo caso, non soltanto a livello decorativo, ma anche per evocare dei significati simbolici importanti. Qui vedete invece un mosaico pavimentale, ovviamente con dei colori molto più smorzati, più spenti, perché nel momento in cui si usavano appunto le pietre non si potevano colorare, ma dovevano essere quelle appunto con il colore originale ritrovato. Vi faccio vedere a questo punto una schema per capire come si lavorasse per realizzare appunto un mosaico. Allora, vedete che innanzitutto c'è una cosa importante che vi racconterò tra poco e che ha a che fare con i mosaici, con il fondo oro. Intanto l'uso della pasta di vetro permetteva colorazioni diverse, perché cosa significa? Io posso decidere di aggiungere dei minerali nella realizzazione della pasta vitrea e quindi ottengo un colore che non otterrei mai se non andando a pescare la pietra dura, che ha un colore che più si avvicina a quello che mi serve. Mentre quindi la pasta vitrea permetterà appunto un arricchimento della gamma cromatica dei nostri mosaici. Verrà poi introdotto anche l'uso delle tessere a fondo oro. Il fondo oro o fondo d'argento, ma noi vedremo in particolare il fondo oro, rivestirà un ruolo importantissimo nel nostro percorso storico-artistico legato all'arte paleocristiana e a quella bizantina. Voglio farvi capire subito che se si parla di fondo oro si intende proprio una tessera di pasta di vetro che aveva una vera lamina, un vero foglio sottilissimo d'oro tra due colate di vetro. Quindi vero oro. Immaginatevi l'effetto di luce strepitosa, incredibile, che veniva emesso. Certo, il colore oro, non vi sto inquadrando un'immagine con il fondo oro, ma perdonatemi, le vedremo tra poco. Il fondo oro riverbera a seconda della luce che entra nello spazio e ovviamente si presta a diventare simbolico della luce di Dio per eccellenza. Come si lavorava per realizzare i mosaici? La bottega artigianale prevedeva una grande elaborazione. Esistevano diverse figure coinvolte. C'era il personaggio più importante di questo laboratorio, si chiamava il Pictor Imaginarius. Era colui che immaginava la vera e propria composizione da realizzare. Poi c'era il Pictor Parietarius, il pittore che doveva trasferire sulle pareti le immagini da rappresentare della figurare. Poi il cui contorno veniva spesso disegnato e inciso sull'intonaco fresco per avere la traccia da riempire. E poi a questo punto subentravano i museari che erano coloro che dovevano collocare le singole tessere al loro posto. Esistevano poi tutta una serie di garzoni di bottega che dovevano preparare i vari strati. Qui vedete appunto i vari strati. Si partiva con uno strato di ciottoli che consolidava la muratura o il pavimento. Poi c'era un battuto di pietra e poi c'era un nucleo e poi c'era un letto di posa, quel famoso intonaco che vi dicevo, e al di sopra le singole tessere e quindi veramente un lavoro molto complesso. Vi faccio vedere adesso qualche esempio importante. Magari non mi ci fermo tantissimo, però provo a darvi un po' un'idea anche del metodo che voglio che impieghiamo. Allora, una volta che, da adesso in poi, ogni volta che noi studieremo un dipinto, un affresco, un crocifisso, una statua collocati all'interno di una chiesa, dovremo sempre fare questo lavoro. Cioè, quindi dovremo sempre dire dove è situato l'oggetto che stiamo studiando e quindi mostrare l'immagine, o meglio, non dovremo mostrare, ma dovremo contestualizzarlo. Quindi vi sto mostrando dall'esterno il mausoleo di Santa Costanza, di cui vi ho già parlato un po' di volte. Quindi questo è quel mausoleo nato appunto per custodire le reliquie della figlia di Costantino, Costanza, appunto, che poi verrà trasformato in battistero e poi in chiesa. Lo vediamo dall'esterno e qui vediamo una foto dell'interno. L'abbiamo già incontrato più volte. Qui vedete, sempre con il grand'angolo, una bellissima visione appunto della volta anulare, volta a botte a tutto sesto, ad anello, che circonda la forma circolare. Vi ricordate, la pianta del nostro mausoleo di Santa Costanza è pianta centrale, addirittura circolare. E qui vedete appunto che la volta a botte del deambulatorio è completamente decorata con i mosaici, che già in parte vi ho mostrato. Esistevano, intanto mi preme dirvi che per quanto riguarda questa tipologia di mosaici, vedrete che abbiamo interventi molto raffinati, che si rifanno a un naturalismo ancora ellenistico, ma in fondo non ci stupiamo perché Santa Costanza, questo edificio nato come mausoleo, era frutto di una committenza imperiale. Era stato il padre Costantino a chiedere appunto di avere la realizzazione di questo edificio. Quindi è ancora una lavorazione molto raffinata e come sappiamo, ogni volta che c'era una committenza imperiale di un certo tipo, il riferimento era sempre alla Grecia, all'ellenismo. Ma esistono diversi tipi di decorazioni. Qui vedete che ci sono una serie di decorazioni di tipo geometrico, con dei cerchi, delle losanghe, degli intrecci, dentro cui vengono incastonati delle figure, dei fiori, dei putti, degli animali, degli uccelli, vedete che appunto possono variare. Vedete appunto qui questo qualche bellissimo dettaglio, vedete qui la bellissima infilata, vedete che si susseguono le parti geometriche riempite con i ritratti delle figurine, come vi dicevo prima, oppure c'è una seconda parte molto più naturale, con maggior libertà compositiva, ed era quella che vi mostravo al principio del nostro percorso. Ancora qui qualche bellissima foto, adesso noi ci concentreremo su questa parte. Perché? Eccola qui. Perché appunto questa maggior libertà compositiva a cui vi stavo accennando, darà vita in questa parte della volta del nebulatorio ad una decorazione che abbiamo già incontrato. Vi facevo vedere la rappresentazione dell'iconografia della vendemmia come ovviamente momento della simbologia cristiana, della raccolta dei frutti. Vedete che agli angoli di questa rappresentazione, vedete intanto anche la bellissima decorazione a cornice, che ruota intorno a queste riquadrature. Vedete che agli angoli abbiamo due piante di vite, i cui tralci, parleremo di tralci, questa vegetazione che si rispiega nello spazio, appunto i cui tralci riempiono, decorano per intero questo spazio. E in mezzo a questi tralci di vite, riferimento appunto al passo del Vangelo in cui si dice io sono l'albero, voi siete i tralci, chi resta in me da buoni frutti, chi invece non rimane attaccato alla pianta, ovviamente è destinato a seccarsi. Ecco, il riferimento alla pianta, all'albero come simbolo cristiano e di Cristo per eccellenza, ma anche alla vendemmia da cui appunto, l'uva da cui si trae il sangue di Cristo, il vino dell'Eucarestia. Vedete che questa bellissima rappresentazione è riempita da dei personaggi che sono arrampicati su questi tralci, come se fossero gli operai manovalli che stanno appunto staccando i grappoli d'uva per la vendemmia. Vediamo intorno anche la presenza di uccelli, una presenza davvero di grande naturalismo, di grande naturalezza, così come l'abbiamo visto appunto anche per quanto riguarda i personaggi che stanno trasportando con i buoi il carro pieno d'uva, oppure coloro che stanno già pigiando l'uva per procedere e provvedere appunto alla produzione vera e propria del vino. Ora, tutto questo vedete che si realizza su un fondo chiaro, molto luminoso e con dei colori che sono anche abbastanza accesi rispetto, dicevamo prima, anche rispetto agli esempi che vi ho mostrato. Vi vorrei mostrare qualcosa di importante per quanto riguarda la tecnica del mosaico in generale. Vedete che il mosaico in realtà non permette di ottenere degli effetti di sfumatura. Vedrete che troveremo spessissimo o quasi sempre delle linee di contorno molto nette e marcate, antinaturalistiche, non è così che succede che gli oggetti sono nella realtà, ma un disegno così marcato risulterà necessariamente semplificato e rigido, fisso, anche se in questo caso ancora guardate la gradazione sfumata per dare l'effetto della tridimensionalità dei corpi, ad esempio, di questi buoi è ottenuta ovviamente in che modo? Accostando tessere di colore via via gradualmente più chiaro o più scuro a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Se si vuole ottenere l'effetto di rotondità, di plasticità, occorre mettere la parte scura più esterna e gradualmente accostare delle tessere via via a filari più chiare. Normalmente si disponevano queste tessere appunto in filari orizzontali, potevano esserci delle eccezioni appunto quando correva a scendere nel dettaglio. In alcuni casi vedremo che se magari c'era la rappresentazione non so, di un ritratto, come in questo caso, anche se questa immagine non deve essere bellissima, non riesco neanche a ingrandirla, è che in alcuni casi addirittura per gli incarnati, l'incarnato è la parte della pelle a vista nei volti o nei corpi, talvolta si usavano delle tessere più piccole per ottenere un effetto di maggiore, oggi diremmo di maggiore risoluzione, di definizione migliore. In fondo i mosaici di un tempo di questi popoli cristiani assomigliano molto ai pixel dei giorni nostri. In questa volta di tralci vegetali vedete che campeggiava al centro incorniciato in modo molto leggero da uno di questi tralci il ritratto verosimilmente proprio di Santa Costanza, di Costanza, anzi, non era ancora santa. Vi ho mostrato queste immagini, appunto per mostrare le possibilità di rappresentazione, ma facciamo un passo in avanti e vi faccio vedere un'altra chiesa altrettanto importante, anzi lo faccio tra un attimo.